In prima istanza è meglio se le persone riescono a risolvere i problemi tra loro, perché fa parte di uno schema duraturo che sviluppa la capacità di risolvere altri eventuali problemi che si potrebbero presentare in futuro. Il passo successivo è che se lei e io non siamo in grado di risolvere una questione, possiamo coinvolgere una terza persona, un mediatore, un servizio di mediazione che ci aiuterà a risolvere la questione in modo da poter ricostruire la nostra relazione, almeno su un piano pratico. La difficoltà di andare in tribunale è che la maggior parte delle persone pensa di avere la loro grande occasione in tribunale, di avere la possibilità di parlare di quello che li ferisce, li fa arrabbiare o li preoccupa, ma in effetti non è così. In tribunale si decidono le questioni di legge, non si ascoltano problemi di tipo relazionale, non si ascoltano preoccupazioni, non si ascolta chi ha ragione, che ha torto per quanto riguarda i sentimenti delle persone. Si tratta davvero soltanto di un giudizio in merito a un diritto o a un torto subito. Personalmente e professionalmente quello sarebbe l'ultimo passo, cioè portare qualcuno in tribunale. Ripeto, se continuate a vivere lì e a essere buoni vicini, ci devono essere altri modi per risolvere i problemi. Ora, che i problemi siano il rumore o questioni relative a siepi o alberi, ci sono modi diversi per risolverli. Parlare con il vicino, comunicare con il vicino, capire il suo punto di vista, è molto, molto importante. Cercare di portarlo in tribunale probabilmente non è la cosa migliore per lei se vuole costruire un buon rapporto con il vicino. Quindi quello che deve fare è cercare di stemperare la situazione più possibile, cercare quante più alternative possibile, ad esempio parlare con loro del problema, perché se non ne avete mai veramente parlato, non potete sapere se dirà sì o no. A volte le alternative al tribunale sono più economiche, spesso sono più rapide ed accessibili. Quindi provarci da soli, avere la sicurezza per provarci da soli, altrimenti portare un amico, un familiare o anche qualcuno che possa parlare a nome suo per aiutarla nella discussione, aiutarla a risolvere quelle questioni con il suo vicino. Può essere un modo molto migliore per procedere. Risolvere la questione tra voi sarà molto più veloce, molto più economico, molto più semplice ed in più salvaguarda il rapporto. Non avrà un vicino che non vuole vedere mai più o che non vuole vederla e con cui c'è tensione ogni volta che vi incrociate. Quando si arriva a portare i vicini in tribunale, la cosa più importante è pensare al rapporto duraturo, al danno che è portare i vicini in tribunale è reccherata al rapporto. Ci saranno sempre motivi che faranno sì che dobbiate interagire con loro. Se fanno rumori di notte, vuole chiedere loro di abbassare la musica, vuole davvero chiamare la polizia ogni volta che succede o vuole poter sollevare la questione il giorno dopo e dire semplicemente sarei veramente lieto che i rumori scendessero dopo le 10 perché è un bambino che dorme. Portare la questione in tribunale è quasi la obbliga a rivolgersi ogni volta a un'altra autorità e se potete risolvere la questione da soli potete trovare una soluzione accettabile per entrambi oggi stesso. Se dovesse andare dal suo vicino a spiegargli le sue preoccupazioni e ascoltare le sue preoccupazioni, allora con molta probabilità questo stesso pomeriggio prima di andare a letto potrebbe avere la comoda consapevolezza che avete risolto il problema. Se andate in tribunale il procedimento è molto più lungo.